Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale dei nuovi Lasciatevi al hashtag Jurassic World Game qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino E passate anche dai due video usciti prima di questo Brawl Stars, la No Super Challenge E l'altra ancora precedente che è l'Iron Man Challenge Ma andiamo avanti con la nuova puntata Allora prima di tutto avevo un po' di soldi in esubero E allora ho detto mettiamo un altro po' di statue di Hammond Così cominciamo a salire verso il 70 Poche poche giusto per avercele Perfetto E siamo già quasi al 70 Qui ci voleva qualche statuina in più La potevo pure mettere e non l'ho messa E quindi non ci arriviamo oggi Peccato Raccogliamo la bustina gratuita E poi ci andiamo a prendere anche la bustina 24 ore Perché stavolta la salvata Quindi non me la son dimenticata Siamo di nuovo a 8000 ai rotti di no dollari Perché con gli scambi e con gli eventi Si riescono a prendere sempre abbastanza facilmente I scambi sul porto ragazzi I scambi sul porto sono tutto Andate a fare gli scambi sul porto appena l'avete sbloccati Ok vai Bustina 24 ore per Morduchino Ci siamo Dacci la bustina e vediamo che cosa troviamo qua dentro Dino dollari DNA Siamo vicini al DNA per fare l'ultimo Indominus Rex Quindi per poi riuscire ad arrivare a fare l'Indoraptor Finalmente Che costerà un fottio di punti Ma è veramente sgravo E poi andiamo a vedere che cosa abbiamo Allora le missioni Prima di tutto c'è questa che ancora non è finita Che tra un po' di tempo finirà Ok Sblocca i 4 milioni di dinosauri Fusi si sbloccherà questa bustina Perfetto E poi abbiamo la missione quella lì No giornaliera Quella lì della storia Che stiamo a 1.660.000 su 3 milioni Quindi ancora manca un pochino Dovrei fare più strutture Ma non mi va di spendere dino dollari O di spendere soldini a random Ok raccogli da un edificio Fatto E direi di andare avanti Che missioni abbiamo oggi? Battaglia? Anche perché non ci sono dinosauri ancora nuovi Perché stanno ancora tutti a farsi Allora Diciamo un po' Sotto la superficie Questa la dovevamo fare Non l'abbiamo fatta l'altra volta Quindi la facciamo oggi I nostri avversari vanno pesanti A noi dobbiamo andare pesante Giustamente Dobbiamo essere alla pari Ok Battaglia è molto grinto Se Nundasuko Non attacca Nundasuko Giustamente metterà uno in difesa Perché noi abbiamo un bel attacco Non lo fa Aia Che strano Allora Tiene 3 da parte Allora Proviamo un 4 3 2 Vai No ha difeso 1 Mi sa che ci rovina Ah Attacca 5 Potrebbe farci del male No Non ci uccide Però Il danno l'abbiamo sentito Per carità Allora Visto Per non sapere Nel leggerne scrive Io preferirei Sacrificare l'opterodattilo Ok Adesso Le botte se lo prende L'opterodattilo Che c'ha 2 da parte Quindi 2 difese L'avversario Per non sapere Leggerne scrive Dovrà attaccare 4 pieno Per eliminare L'opterodattilo Bam Ottimo Quindi il nostro Mastodonto C'ha l'attacco Completamente Libero e felice E la cosa bella È che noi facciamo 1, 2 E 4 da parte Bam Ragia stega Va giù A chi tocca A chi tocca Adesso lo prendiamo A schiaffi Boom 4 su di noi Ottimo Abbiamo vinto Con il nostro bellissimo Presto Suco Il procerato Sauro è una bestiaccia Perché c'ha un ottimo Attacco Anche se poca ira Ok Boom Andiamo al prossimo stage Questa è una situazione Un po' difficile Perché non l'ho L'opterodattilo Fatto bene Vediamo un po' Itiostega Potrebbe fare un change Fa il change Col carnivoro Ah 2179 Fortuna che ci abbiamo Monostecotopo Che comunque è un ottimo Tank Ha attaccato Atversario Ha attaccato Quindi Era Zinosauro Boom Due attacchi Dovrei ucciderlo Non penso Sì Ucciso 3.800 Giusto Ok Itiostega Adesso potrebbe uccidere Il mastodonto Con due attacchi Vediamo un po' Perfetto Mastodonto Va giù Non abbiamo Un vero e proprio Vantaggio Però lui ha attaccato Con due Quindi adesso Dovrebbe Shottarsi Con tre Ottimo Itiostega Va giù Questo è un 704 Senza potenziamenti Dovrebbe fare Tre attacchi Per uccidermi In monostecotopo Perfetto Abbiamo vinto Eh Sto ranforinco Era Abbastanza Grandicello È pericoloso Davvero Mi preoccupa Il prossimo stage A sto punto Speriamo che non ci siano Altri erbivori Tre anfibbi Stiamo nei guai Allora Se attacca due Ce fa 3000 danni in faccia Attacca uno Quindi uno Ce la ho da parte O in difesa Me la devo rischiare Con un 1-2 Sì Ha difeso Uh Fortunelli Dai attacca due Ti prego Attacca due Sì Ottimo 1-2 3 per ucciderlo 2 da parte Ok Abbiamo due da parte L'avversario dovrebbe avere tre Perfetto Quindi potrebbe attaccare tre Per ucciderci Sì Ok Sta andando Decentemente Anche se loro sono giganteschi Allora A me mi ci vogliono 1-2 3 attacchi Per ucciderlo E a questo punto Me la devo rischiare Con un 2-1 Perché lo poterò dati E lo vorrei tenerlo È grosso È grosso È un 4 Se mi attacca due Mi uccide Non attacca due Per nostra fortuna Allora Io tiro il tutto Per tutto Dai 5 Sì È andata bene Boom Abbiamo vinto questo stage Bustina per noi Dolly Choring Chops E per fortuna Perché Dopo tutto quel casino Se non mi dai roba DNA Mmm DNA Tanto DNA 47.000 di ciccia E poi c'è dai Il Dolly Choring Chops Rarissimo Non è un premio bello cicciottoso Ecco I GV Già Sono decenti Perché abbiamo utilizzato Una vagonata di DNA Per farlo Ok Ah ok L'abbiamo sbloccato Anche nel mercato Quindi adesso si può anche comprare Miracolo Allora Direi di metterlo immediatamente a fare Perché è importante Levarsi subito i dinosauri Specialmente i rarissimi È una bella conchigliozza Quindi potenziarlo Non sarebbe male Ci mette 11 ore Neanche tanto Quindi domani è fatto Quindi dopo domani Sicuramente potrete vederlo Ok Proseguiamo con le missioni Vediamo che battaglia Ci abbiamo ancora da fare Eventi Possiamo fare Rivendica il tuo territorio E lotta per i fondi Interessante Lotta per i fondi Anche se sappiamo Che ne sprechiamo più Di quelli che prendiamo Rivendica il tuo territorio Dai Rivendica il tuo territorio Oggi è giornata Mi tocca di spreca tutti Dino dollari Raga Questo è partito con lo stage Che c'ha un 4.800 Ok Stiamo scherzando 4.800 e 74 Al primo stage È bellissimo Per carità È bellissimo Però Si sente insomma Proviamo con l'1-2 Ok Ho dovuto prendere Tutti i giganti Pure io Non è per niente Una buona situazione Perfetto Ha attaccato Allora il mio Pterodattilo Scenderà in campo E prenderà un sacco De botte Sicuramente Però Uccidiamo Gorgosuko 1 2 3 Per uccidere Gorgosuko 1 da parte Perfetto Ci capita L'erbivoro Che è potenziato È un 1475 3 attacchi Per ammazzarmi Deve attaccare 3 Perfetto A noi toccherà L'Indominus Rex Più potente della vita Quindi poverino Uerosauro suo potenziato Livello 29 Farà una brutta fine Due attacchi Va giù E senza sapere leggere Ne scrive Indominus Può anche morire E lasciare posto Al mastodonto Che Comunque se la poca va Sempre se Lui attacca Perché noi abbiamo 3 Da parte Potrebbero essere 3 difese Per lui Attacca 3 Ok Ottimo Siamo ancora vivi A sto punto Mi dispiace per te Pachigalosauro Ma Ci uccido di Indominus Pem La cattiveria Finito sto stage Ci fermiamo Perché Già sto consumando Tantissimi dinodollari Per questo evento Che comunque Dall'altra parte C'ha i sucomimo Livello 132 Con 4200 di vita E Otterano Donte 1818 D'attacco Che mi ha attaccato Facendo lo scambio Porca miseria Allora Abbiamo il vantaggio Perché adesso Lo uccidiamo male Però Io ho dovuto Utilizzare Leolambia Rutilizza l'altro Quindi sempre 380 150 Dino dollari L'evento Dei dinodollari Probabilmente Non me ne darà Abbastanza Quindi Andrò a consumare Più dinodollari Per fare l'evento Dei dinodollari Che altro Quindi preferisco Non farlo Leolambia Attacca 2 Ok Aveva 2 Quindi è giusto Così 3 attacchi Quindi non ci rimane Niente Questo è un brutto Guaio Solo perché È enorme Ok Attacca 3 Per ucciderci Quindi dovrebbe Essere morto Presto sugo C'è rimasto Ok Anche questo stage È fatto Ma i dinodollari Sono volati Regà Mi sa che qua Ritorniamo a 6500 Dopodomani Ristiamo di nuovo 8000 Perché Non riesco più A risalire Dino dollari Ultimo stage Contro il gorgosauro Gigantesca Il bello È che adesso Li farà Scambiodino E metterà Quel bellissimo Bolazzante Oh miseria 2252 Che non ha attaccato Però Allora Io potrei provare Un 2-1 Una strategia Un po' troppo Difensiva Ma ha messo da parte Devo dire Che attaccherà 3 Non attacca Ok Abbiamo un serio problema Provo con un 3-1 Ok È andata bene Lui adesso è un 4 Potrebbe attaccare 4 Non attacca ancora Ok Siamo un po' nei guai Io direi di fare un 4-1 È rischioso Come Tipologia difensiva Ma è l'unica soluzione Che ci abbiamo Perché è un 6 Penso che attacchi 5 Attacca 6 Abbiamo È morto il mastodonto È morto il mastodonto Regà Siamo un po' in difficoltà Allora 1 E va giù A secco Quindi 4 da parte E Olambia deve morire E se deve potenziare Il presto De cattiveria Lo dobbiamo difendere Appieno Perché mo' tanto Lui con 4 Non pensa attaccherà Le Olambia Vediamo un po' Non attacca infatti Quindi io posso fare Una cosa un po' tattica E fare 4-4 Ok I due attacchi Che sono passati Quindi abbiamo abbassato Un po' Ta Nicola Greu Quindi ci vorrà Meno vita Al nostro presto Per eliminarlo Fa 6 Attacca 6 Giustamente per eliminare Le Olambia Siamo rimasti Col presto Suco Che con Due attacchi Si porta a casa Due difese Separa da tutto E 4 da parte Vediamo un po' Ok Gorgosauro Se attacca 4 Non ci può uccidere Attacca 3 Perfetto Abbiamo vinto L'abbiamo fatto Anche con quel Dinosauro di svantaggio Rielaborando Un attimo I conti 8 Gorgosugo Ciao Portiamoci a casa La bustina Va Ok Non è la bustina Ma sfortunatamente È la ruota dei premi Speriamo Nella bustina Magari Alla bustina Ma quando mai A Morduch È capitata Una bustina Nella ruota dei premi Adesso No Non ci credo Di uno Trinacromero Ok Metto a fare Anche il trinacromero Ragazzi Morduchina È sfortunello Come sempre E giustamente Non era una bustina Quindi non c'è Da neanche Punti fedeltà Guardate quanti Ne mancavano pochi Dai mettiamo a favore lui Così è rarissimo E domani è pronto Pure lui Quanta Dino dollari Siamo scesi Leggermente sotto Dino dollari In confronto a ieri Quindi non voglio Continuare a fare L'evento dei Dino dollari Perché ne sfrago più Di quanti me ne dà Quindi ragazzi Penso che per oggi Sia tutto Arriviamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se sei nuovi Lasciatevi al giurassi World the game Qua sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E passate anche Dai due video di Brawl Stars Uscite prima di questo video Se non vi sono arrivate Le notifiche Iscrivetevi Qua sotto Iscrivetevi Hashtag No feed Grazie a tutti Grazie a tutti